A Melilli è stata inaugurata l'edizione 2024 del Carnevale Più Stretto d'Italia. A tagliare il nastro questa mattina il sindaco Giuseppe Carta. Accanto a lui gli assessori Francesco Nicosie, Flore Incontro e la presidente del Consiglio Comunale Alessia Mangiofico. Poi è stata scoperta la targa che riporta la scritta Melilli, il Carnevale Più Stretto d'Italia. Saranno sei giorni da oggi e fino a martedì prossimo all'insegna dell'allegria, della gioia, della spensieratezza e del divertimento con tante maschere a sfilare insieme ovviamente ai carri allegorici. Questo era un punto debole del Carnevale melillese, ora è diventato un punto forte del Carnevale della Terrazza degli Ibrei. Carnevale della Terrazza degli Ibrei che comprende Melilli, Villasmunto e Città Giardino. Ricordiamo che il nostro è un Carnevale antichissimo ma viene svolto in due località, su due zone lontane 20 km e la capacità a Melilli Centro ancora dopo tutto questo tempo, dopo tutti questi anni, di avere artigiani, giovani, all'altezza di costruire carri senza andare fuori a comprare componenti di altri Carnevali è sicuramente un lustro. La cosa più importante è che attorno al Carnevale gira una macchina economica, una macchina organizzativa che ci ha permesso ad oggi di essere uno, un Carnevale molto importante, tra cui siamo uno dei dieci candidato al patrimonio dell'umanità, c'è in corso la candidatura al patrimonio dell'UNESCO, siamo orgogliosi di avere questo primato, sicuramente non è stato volontario ma involontario grazie alla composizione urbanistica della nostra città. e sfruttiamo un punto debole per pubblicizzare il nostro Carnevale, sfruttiamo un punto debole per avere un nostro primato, tutto il nostro ibleo e sicuramente ci ha fatti conoscere e rappresenta una novità, una particolarità dei Carnevali d'Italia. Carnevale 2024, l'assessore Nicosia, che edizione sarà? Sarà un'edizione secondo me fantastica perché i lavori che sono stati fatti nei capannoni sono lavori splendidi, quindi avremo dei carri assolutamente all'altezza della storia del nostro Carnevale, che riempiranno di bellezza la nostra città. Altrettanto sarà per le sfilate dei gruppi in maschera, che sono tutti 11 gruppi in maschera, tutti belli e piacevoli, con tante maschere, buffe, tanti vestiti fatti nel dettaglio, curati e tanta allegoria che farà sorridere chi verrà a trovarci e vedere il nostro Carnevale. Sarà, spero, un bel Carnevale, così come siamo abituati e come abbiamo abituato ormai non soltanto i cittadini merillesi, ma anche coloro i quali ci vengono a trovare in questa occasione, che sono veramente parecchi fino all'anno scorso. A partire da stasera con gli Shaka Lab, il Re Carnevale che sfilerà lungo le vie del centro, domani gli Archinue e poi il Radio Studio Centrale, sabato FM Italia dopo la sfilata dei gruppi in maschera, domenica che ci saranno di mattina i bambini in maschera e poi nel pomeriggio la sfilata dei carri, ci sarà il LDA, ci sarà Luigi Zimitti e la sua orchestra che allieteranno la serata e la nottata, lunedì nuova sfilata di gruppi in maschera e poi martedì il Gran Finale con i carri allegorici, i gruppi spontanei che parteciperanno alla sfilata finale. E poi c'è la madrina, Taylor Mega, che sarà insieme a noi sul palco, mentre con la musica dei Los Deseos. Per concludere poi in bellezza col DJ nazionale Molella, che chiuderà l'ultimo atto di questa 64esima edizione del Carnevale Merillese.